Mostrando un caso da denti fissi con sistema bocca bionica una paziente che aveva una protesi nella bocca, nell'arcata superiore in plastica questa era una dentiera completamente consumata nota ai denti come erano stati limati dalla dentatura inferiore il sorriso non si vedeva più, si era praticamente mangiata la protesi i denti inferiori anche essi erano ormai tutti in espulsione qua nell'Rx puoi vedere come le radici hanno infezioni attorno questa è la paziente dopo la prima chirurgia con dei denti provvisori già molto più lunghi rispetto alla dentiera consumata che aveva prima e questa è la chirurgia che è stata eseguita impianti nella parte inferiore convenzionali e nella parte superiore impianti convenzionali assieme a impianti ptericoidei su di questi abbiamo poi messo i denti provvisori già dopo la prima chirurgia il paziente può masticare, sorridere chiaramente non può ancora dentare i cibi duri come coi denti definitivi deve fare attenzione qua vedi l'ATAC 3D, il tipo di chirurgia che è stata eseguita sopra, nota agli impianti ptericoidei che danno sostegno nelle zone posteriori evitando le zone di vuoto dei seni macellari abbiamo eseguito un design seguendo il nostro protocollo bocca bionica abbiamo simulato i denti che avremmo voluto creare li abbiamo mostrati alla paziente, ottenuto l'approvazione della paziente e a questo punto abbiamo creato le simulazioni dei nuovi denti questi sono i denti definitivi montati all'interno della bocca effetto perlato, denti molto rotondi, avevamo un viso piccolo, rotondo quindi abbiamo seguito queste forme anche sui denti canini molto rotondati, morbidi, poco aggressivi che danno quell'effetto femminile alla composizione dentale nota l'effetto madre perla, nota come le gengive si camuffino abbiamo quell'effetto che si chiama camouflage dove andiamo a integrare all'interno del corpo umano delle protesi artificiali del tutto indistinguibili da parti di corpo umano questa è la vista da vicino dei denti con anche la saliva sopra ricordati che parte delle proprietà ottiche dei materiali viene esaltata poi dalla saliva i denti non sono mai asciutti, sono sempre umidi e questo è il modo migliore di far percepire quelle che sono le proprietà ottiche straordinarie della linea superior questo è il caso prima e dopo spero ti sia piaciuto, questo è uno dei miei casi preferiti abbiamo optato qua per una tonalità molto chiara in quanto la paziente aveva una carnagione chiara più è chiara la carnagione del paziente e più dobbiamo utilizzare delle linee, dei colori chiari diversamente quando la pelle olivastra è scura spero ti sia piaciuto, dai uno sguardo anche a tutti gli altri casi grazie grazie